Ciao sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio parlarvi del bonus mobili che è stato prorogato anche per il 2023 ma prima di farlo ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno il 5 gennaio ho fatto un super giro tappa tra le Wummerland, Ikea e altre destinazioni proprio per usufruire del bonus mobili che è stato prorogato nel 2023 ovviamente vi ho fatto già un po' di spoiler e beh la giornata del 5 gennaio è stata decisamente impegnativa su Instagram infatti vi avevo già fatto vedere innanzitutto uno spoilerino dell'affare del mese che avete visto nelle scorse settimane per poi dirvi anche che ero in direzione Torino proprio per registrare un po' di contenuti e uno di questi era proprio questo qua perché ho fatto appunto tappa prima le Wummerland poi Ikea e anche altre tappe proprio per registrare alcuni spezzoni di video e parlarvi anche di questo aggiornamento ho già trattato questo argomento in un video che trovate nella playlist dedicata ai bonus statali e se ve lo foste persi ve lo lascio qua sopra nelle schede e qua sotto in descrizione nonostante io vi abbia già parlato di questo bonus nel 2021 voglio fare qualche precisazione perché sono cambiate un po' di cose prima tra tutte la cifra che si può effettivamente scalare ovvero è passata da 16.000 a 8.000 euro e si parla sempre di una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute nel 2022, 23 e 24 partiamo dal principio ovvero chi può richiedere il bonus mobili potranno richiedere il bonus mobili tutte quelle persone che a partire dal primo gennaio dell'anno precedente all'acquisto dei mobili o degli elettodomestici avranno fatto un intervento di riqualificazione edilizia ovvero una ristrutturazione questo intervento potrà essere stato realizzato su una singola unità abitativa oppure anche sulle parti comuni per quanto riguarda edifici con più unità abitative bisogna però fare attenzione a richiedere il bonus mobili in relazione a chi ha sostenuto le spese per la ristrutturazione in tal caso perché se la ristrutturazione è stata fatta in capo al marito e i bonus mobili lo richiede la moglie purtroppo non potrà venire erogato alcun bonus invece se il bonus verrà richiesto dal marito che avrà anche fatto capo alla ristrutturazione avrà pagato lui la ristrutturazione in questo caso potrà essere erogato il bonus mobili ma quali interventi di ristrutturazione sono ammessi per poter richiedere questo bonus beh qua ci sono da fare alcune precisazioni tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ammessi i lavori di manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia sui singoli appartamenti attenzione però perché i lavori di manutenzione ordinaria sui singoli appartamenti non daranno diritto al bonus lo daranno solo quelli fatti nelle parti comuni dello stabile saranno anche ammessi i lavori di ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza infine anche quelli di restauro risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile per quanto riguarda però qualsiasi dubbio tecnico è sempre bene chiedere a chi vi esegui lavori o chi vi ha dato l'autorizzazione per poterli fare un'altra cosa molto importante è capire quali sono gli oggetti da poter comprare che danno diritto a questo bonus sotto questo punto di vista non ci sono tante novità infatti si potranno prendere oggetti nuovi come letti, armadi, cassettiere, librerie, materassi e apparecchi di illuminazione e tanti tanti altri ma attenzione perché saranno esclusi i tendaggi, tende, pavimentazioni e porte insomma potete andare bene o male dai che prendere quasi di tutto per quanto riguarda invece gli elettrodomestici sono inclusi per la detrazione i frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie ma anche tutti quegli apparecchi che possono fare da funzione di raffrescamento e riscaldamento dell'immobile mi raccomando molta attenzione però alla classe energetica i forni ad esempio non dovranno essere al di sotto della classe energetica A le lavatrici, le asciugatrici e le lavastoviglie non dovranno essere al di sotto della classe energetica E mentre i congelatori al di sotto della F soprattutto per quanto riguarda tutti quei grandi elettrodomestici o anche mobili che hanno bisogno di un trasporto e di un montaggio beh potrete anche includere quelle spese nella detrazione una volta capito però quali oggetti si possono comprare e quali condizioni si devono avere per ottenere il bonus mobili bisogna vedere come ottenere il bonus mobili ed elettrodomestici secondo la norma per ottenere questo bonus non sono ammessi pagamenti in contanti oppure assegno o qualsiasi altro tipo di pagamento del genere saranno invece ammessi pagamenti come bonifici oppure pagamento tramite carta ricaricabile di debito e di credito anche se qua mi sorge un dubbio perché io conosco effettivamente alcune persone che hanno pagato in contanti e sono riusciti ad ottenere già delle detrazioni quindi non so come mai è successa questa cosa e mi piacerebbe se alcuni di voi hanno avuto lo stesso diciamo problema che lo scrivano qua sotto nei commenti per ricevere qualche riscontro in più perché ovviamente se la norma dice una cosa ma poi in realtà si può fare anche diversamente potrebbe essere utile saperlo piccola nota per quanto riguarda i finanziamenti dato che alcuni di voi potrebbero effettivamente farli per pagare un qualsiasi mobile oppure elettrodomestico molto molto costoso beh in questo caso si potranno comunque portare a detrazione scalare a patto che la finanziaria che vi ha emesso il finanziamento paghi quest'ultimo sempre con metodi tracciabili quindi quelli che abbiamo detto in precedenza carte, bonifici e quant'altro piccola nota per quanto riguarda il trasporto e il montaggio come abbiamo detto in precedenza anche queste voci qua si potranno portare in detrazione però attenzione perché qua dipende dalla società che svolgerà il servizio se infatti è un qualcosa di tutto incluso quindi faccio un solo pagamento e vengono anche a montare e portare l'oggetto tutto ok se invece se ne occupa una società terza che magari vi richiede il pagamento in contanti facendovi una fattura a parte per quanto riguarda il montaggio e il trasporto lì ci potrebbero essere dei problemi perché in effetti la norma dice che anche questo trasporto e montaggio dovrebbe essere pagato con metodi come bonifico, carte e quant'altro ma cosa ho comprato io per il bonus mobili? la prima tappa è stata fatta alle Wamer Lamp per comprare un sacco di lampadari a led bellissimi e di design al momento del pagamento abbiamo fatto presente alla cassiera che dovevamo avere la fattura per ottenere appunto il bonus mobile altrimenti avrebbe fatto solo lo scontrino quindi ci ha chiesto tutti i dati e poi ci ha fatto avere regolarmente la fattura per la detrazione la seconda tappa invece è stata fatta da Ikea dove siamo usciti con due carrelli pieni di mobili ma qua funziona un po' diversamente infatti bisognerà fare la coda, la cassa, scontrino, tutto normale per poi andare nella sezione apposita in genere di fianco alle casse dove fanno le fatture quindi presentare lo scontrino far presente che serve per la detrazione dei mobili e a quel punto faranno una fattura successivamente io spero che questo video vi sia chiaro ma per qualsiasi altro dubbio o domanda che non sia tecnica e specifica perché non sono un esperto del settore commercialista oppure chiunque si occupi di queste pratiche fatemela qua nei commenti grazie a tutti grazie a tutti